Buonasera, qua siamo gli amici del presepe che ormai da cinque anni ci stiamo organizzando a fare il presepe e cerchiamo ogni anno di farlo sempre migliore. Vediamo che la gente è molto attratta, sono molte persone che vanno e vengono e a noi ci fa veramente piacere. Come dicevo siamo una ventina di persone che ci impegniamo la sera dopo il nostro lavoro di impegnarci a fare il presepe. Qua nella cattedrale di Mileto, Basilica Minore, con il nostro parco Don Mimmo di Carlo. È una nostra passione che ormai è nata così proprio per realizzare questo presepe ogni anno sempre più bello. Vi invitiamo pure a venire a visitare questo presepe perché come stiamo guardando ogni anno le persone vengono a plus diciamo a vedere il nostro presepe.